Tenteremo adesso su questa piazza un esperimento di grande illusione. Quello che succederà sarà questo. Antonio Casanova, un illusionista che è erede della tradizione centenaria dell'illusionismo internazionale, tenterà adesso di far sparire l'anno vecchio, secondo naturalmente una modalità magica, diciamo. Vedrete come succederà. Antonio Casanova! Antonio Casanova Antonio Casanova! 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 E' più basso di quanto? Allora, provo a saltare un tempo. Allora, provo a saltare un tempo. Forma del Mago Casanova al Maurizio Costanzo Show. Il numero è stato interrotto, indovinate perché? Dica? Si è rotto il filo, ma è incredibile! Allora, ne abbiamo uno di riserva, possiamo partire da qua? No, è certo che no, se no chissà che combina Casanova. Prendo. Attenzione, attenzione perché forse ora potreste scoprire il trucco. Bravo, bravo, complimenti! Ecco da chi ha tinto tutti i trucchi il Mago Casanova. Non so se potremmo mai eguagliare un numero di questo genere, caro collega. No, no, di certo. Anche pazienza. Allora, è pronto? Prepariamoci. Sono ansiolillusione del sommo Casanova. Nella scatola c'è una misteriosa mano e osservate bene che cosa succede quando il Mago solleva la scatola. Attenzione! Ma si vede benissimo la mano della partner che sta nascosta nel tavolo, che si ritrae, rivediamo. Ecco la mano che rientra nel buco. E come al solito Casanova ha sbagliato il tempo e il trucco è stato scoperto. E come al solito? E come al solito?